La storia delle tredicesime e dei TFR non pagati ai lavoratori della tradeco di Imperia si arricchisce di un nuovo capitolo. Gli avvocati Salvatore e Maria Giuseppe Shortino di Sanremo sono pronti a chiedere un nuovo pignoramento di 18.000 euro al comune attraverso la banca Carige. Come spiega il legale, si tratta delle spese legali sostenute per tutelare gli interessi degli ex dipendenti dell'azienda pugliese di Altamura. Altri 14.000 euro, sempre per spese legali, sono già stati pignorati nella filiale dell'Istituto di Credito di Oneglia. Si tratta di una vicenda correlata alla spinosa storia della tradeco che tra l'altro lunedì prossimo approderà in Consiglio Comunale. Nella quarta variazione di bilancio che sarà presentata dall'assessore alle finanze Fabrizio Risso, figura il riconoscimento di un debito fuori bilancio relativo all'ordinanza del Tribunale di Imperia sui pagamenti degli arretrati a 56 lavoratori della ex tradeco. Traspettanze per lavoratori e spese legali al comune di Imperia vengono chiesti in totale oltre 400.000 euro.